Il nuovo telegiornale di TVRS, versione domenicale, edizione del pranzo. Apriamo con gli aggiornamenti sulla crisi sismica, con il numero di scosse che sembra in lieve diminuzione. Comunque situazione fluida, ad Ancona tre scuole sono inagibili e lo saranno per mesi. Ci sono molti alunni da trasferire, ci racconta tutto questo servizio. Mentre continua lo sciame sismico con l'epicentro che varia di qualche chilometro tra la costa pesarese e quella marchigiana, dalla mezzanotte una dozzina di scosse con una che ha sfiorato magnitudo 3, emerge con chiarezza che i danni sono superiori a quanto in un primo tempo valutato. In particolare ad Ancona, dove sono molte le transenne sotto i palazzi per lievi lesioni, ma dove, soprattutto, ci sono una ventina di sfollati che dormono ancora al pala indoor e tre scuole rimarranno chiuse per mesi. Si tratta delle medie podesti di via Urbino, le medie Pinocchio e la materna 25 aprile di via Michelangelo. Qui sono previsti interventi strutturali che dureranno mesi e 150 alunni dovranno essere trasferiti in altri plessi. Sono in corso verifiche da parte dei Vici del Fuoco su circa 1500 segnalazioni, ne sono state verificate 300. La tendenza è quella di riuscire a fare circa 100 sopra il luogo al giorno da parte dei Vici del Fuoco. Le priorità sono circa 300, quindi si suppone che per lunedì abbiamo fatto tutti i controlli sulle situazioni più pericolose. Poi ci sono moltissime segnalazioni che però sono state classificate come non prioritarie. Comunque domani ad Ancona riapriranno 18 scuole delle 24 che erano rimaste chiuse ieri. Per altre tre saranno ancora necessari rapidi interventi e riapriranno in settimana. E' morta la 14enne ricoverata da martedì in gravi condizioni all'ospedale Torrette di Ancona dopo lo schianto in auto nelle colline di Santa Veneranda a Pesaro. La vittima si chiamava Milena, studentessa di Monbaroccio. Si stava recando a scuola in auto con un'amica quando è avvenuto lo schianto. L'automobile condotta da un 19enne ha colpito un'altra vettura prima di finire contro il muro di un'abitazione. Le condizioni di salute della ragazza si erano aggravate con il passare delle ore. Il provvedimento governativo, cosiddetto sblocca trivelle, riguarda in particolare l'Adriatico, aumenterà il volume del gas prelevato e saranno date altre concessioni per la ricerca in mare a patto che siano supportate da uno studio geologico completo per verificare l'assenza di effetti significativi di stabilità tettonica. Recentemente, proprio nel nostro Tg, il presidente dell'Ordine dei Geologi, Piero Farabollini, aveva escluso connessione tra il sisma in corso e le trivellazioni. Il professore Emanuele Tondi, docente di geologia strutturale a Camerino, ha ribadito che la sismicità eventuale causata dalle trivelle è vicina allo zero e localizzata al punto di prelievo. Come sapete, la domenica il nostro Tg va in onda in versione ridotta, un po' più corta, ma non rinunciamo certo allo spazio dedicato a voi. Via alla sigla TVO RS. La sigletta che avete appena visto apre lo spazio dedicato ai telespettatori, una zona del Tg dove possiamo mostrare i vostri video fatti con i cellulari tenuti rigorosamente in orizzontale e ci vengono segnalati problemi, immagini belle con esperti che rispondono ai quesiti. Potete dialogare con noi, inviarci video o domande tramite WhatsApp al numero che vedete e ora riproponiamo una rubrica di storie che abbiamo visto in settimana, riguarda gli approfondimenti su vicende di vita positiva, storie belle di marchigiani che ce l'hanno fatta, storie emblematiche sempre su vostra segnalazione come questa. Vi riproponiamo la curiosa vita di Filippo Ercolani, carpegnolo doc, nato e cresciuto all'interno del Palazzo dei Principi, assieme ai regnanti e alla servitù. Filippo Ercolani, di Carpegna sei nato in questo palazzo, Palazzo dei Principi. Raccontaci la tua storia. Nel 1956 sono nato qui dentro per un motivo solo, perché la mia famiglia, mia mamma faceva la cuoca, mio babbo il maggiordomo e giardiniere diciamo tutto fare, quando era ora di partorire hanno chiamato l'allevatrice, allora si chiamava così e non era disponibile che erano andati in un comune vicino e sono nato in una stanza qui nel nostro appartamento della servitù, nelle mani della principessa Anna ed è un grandissimo piacere e d'orgoglio. Un aneddoto, una curiosità su quei tempi? Un aneddoto sulla curiosità di quei tempi, più che mai dopo, quando il principe Guido Baldo, una persona storica che abbiamo fatto i cento anni della nascita qualche giorno fa, ricordato da tante persone di cultura, una sera parlando così, ironicamente mi diceva che con me ero leggermente arrabbiato e anche un po' invidioso solo per un motivo, perché lui diceva io sono il principe di Carpegna e sono nato a Napoli, tu non sei tra virgolette nessuno e sei nato nel palazzo dei principi, per me è una grandissima soddisfazione. Fino a che età hai vissuto qui dentro? Io ho sei anni, praticamente nel 62 siamo andati e abbiamo lasciato il palazzo, i miei genitori dal 50 al 62. Sono sposati nel 50 dopo aver fatto il servizio di cena e alle nove e mezza alla presenza di un sacerdote e dei due titolari principi in carica hanno fatto il matrimonio, loro quattro solo persone. Tensione l'altra notte nel carcere di Montacuto ad Ancona, dopo aver avvertito alcune scosse, i detenuti hanno preteso di trascorrere la nottata con le celle aperte. Al diniego del personale di custodia hanno aggredito quattro agenti che sono rimasti lievemente feriti. Al termine di una delicata trattativa hanno potuto trascorrere la nottata all'interno delle loro celle, ma con sbarre aperte. E ora la pagina dedicata allo sport, sportivamente. Parliamo di calcio. In Lega Pro la Re Canatese è in campo in questi minuti a Gubbio, la partita è iniziata alle ore 12. Bispesaro impegnata a Montevarchi alle 14.30, stesso orario di inizio per Ancona Imolese e Fermana Alessandria, uno scontro diretto. Volle in Superlega, la Lube oggi di scena a Cisterna alle ore 18. Ieri sera, nell'anticipo della sesta giornata di andata del massimo campionato di pallavolo femminile, la megabox ondulati del Savio Vallefogli è stata sconfitta 3-0 da Monza, una vera volley Milano ancora imbattuta. La cronaca della gara è a cura di Andrea Verdolini. Nessun miracolo a Monza, oggettivamente sperarlo, era ai limiti dell'impossibile. Il vero volley Milano del coach anconetano Marco Gasperi è in forma smagliante, oltre ovviamente ad avere un organico di altissimo livello. Le bianco-verdi ci hanno provato, tenendo botta però soltanto all'inizio del primo e del terzo set, poi le paroni di casa, trascinate da Thompson e Stisiac, e con la regia di Alessia Orro, la sarda sarà votata come MVP del match, hanno preso in largo, non cedendo nemmeno di un millimetro in tenuta mentale e concentrazione, e chiudendo i parziali a 19, 10 e 18. Coach Mafrici ha anche provato a mischiare le carte con gli ingressi di Carraro, Luzzo e Papa, ma i servizi di Silla e Stevanovic hanno chiuso definitivamente i giochi. La Megabox Vallefoglia esce da questo confronto dall'altissimo, coefficiente di difficoltà a testa alta, resta a quota 8 in classifica, e nel ritmo incalzante imposto dal calendario sono già proiettate al turno infrasettimanale di mercoledì, quando ad Urbino arriverà il Bisonte Firenze, altro avversario poco raccomandabile. Nel pomeriggio alle 17, la CBF Balducci Macerata riceve la Savino del Bene Scandicci. Nelle altre gare di volley, in A2 maschile, la Videx Grottazzolina è stata battuta 3 a 2 in casa del Prada di Pordenone. In A3 la Vigil Arfano si è imposta 3 a 0 a Savigliano, mentre la MedStort Unit è passata a Monselice per 3 a 2. Per restare aggiornati su tutte le nostre notizie della regione, vi consigliamo di seguire il nostro sito internet, UTVRS, che sta scorrendo in sovraimpressione. Parliamo di cronaca, sport e molto altro, e vi teniamo sempre aggiornati in tempo reale. È davvero tutto per questa prima edizione del Tg All News di TVRS. L'appuntamento con l'informazione è per questa sera alle 20.15. Vi ricordo che alle 14.30 saremo in diretta con il Calcio d'Eccellenza. C'è la partita Urbino-Maceratese, poi dalle 17.30 ancora in diretta con il Palio dei Comuni del San Paolo di Monte Giorgio. Dopo la sigla ci sono le previsioni del tempo. Io vi auguro una serena domenica. Ben trovati in un aggiornamento con la previsione per la giornata di domenica, quando un vortice depressionario, alimentato d'aria fredda in quota, stazionerà il centro-sud Italia e tutto attorno sull'Europa centro-orientale, campo anticiclonico. Nel dettaglio possiamo osservare una giornata con gran variabilità, venti ciclonici al centro-sud e qualche precipitazione. Pioggia in risalita poi a fine giornata verso le regioni nord-orientali. In sintesi, la mappa dell'Italia con questo tempo dinamico, instabile dappertutto, anche a tratti sulle due isole maggiori. Piogge che in serata bagneranno anche parte del nord-est, soprattutto la Romagna. Dettagli maggiori e ulteriori approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.